Gli accettamenti ICI per l'anno 2011 hanno fatto registrare solo un numero limitato di anomalie e il dirigente del settore tributi, Francesco Scrofani, a fare chiarezza sulla vicenda a seguito dei presunti disagi che erano stati segnalati da Livio Tumino di Laboratorio 2.0 che paventava una situazione ben peggiore per i contribuenti. Per le agevolazioni non riconosciute, afferma il dirigente di settore, è stato verificato che si è trattato solo di 58 esenzioni non inserite a sistema su un numero complessivo di 5.498 avvisi di accettamento emessi con una incidenza di appena l'1%, relativamente alle quali l'ufficio è già proceduto alla lavorazione delle posizioni interessate. Per quanto riguarda poi il trasferimento dei dati, operazione estremamente delicata e complessa che riguarda tutti i comuni, prosegue Scrofani, è stato gestito con una percentuale minima di errore, 388 versamenti non abbinati con una incidenza del 7%, rispetto alla quale l'ufficio è prontamente intervenuto evitando l'insorgere del contenzioso. Non è consentito, conclude il dirigente, derogare alle norme di legge che stabiliscono i termini delle impugnazioni, 60 giorni dalla notifica dell'atto, e comunque l'ufficio ad oggi si è sempre attivato tempestivamente a rettificare le istanze in autotutera nei termini di legge. Secondo Tumino di Laboratorio 2.0, invece, il Comune non avrebbe verificato il trasferimento dei dati dei contribuenti dal vecchio al nuovo sistema informatico generando presunti errori, errori che ora sono stati notevolmente ridimensionati dal dirigente di settore. Grazie a tutti.